quindi buonasera buonasera e benvenuti questo per noi è l'incontro conclusivo di mytech che è una rubrica che dedichiamo alle innovazioni tecnologiche di prodotti e di servizio tutti gli anni nell'ultimo periodo sempre collegato al macrut e che quest'anno per forza di cose ma i fruit ha deciso di riservare a una questione un po spinosa come quello dell'aumento dei costi energetici delle materie prime della logistica questi sono i numeri che quindi cia dice una cosa dal punto di vista della commercializzazione della parte della produzione che va in commercializzazione diamo questi numeri sono interessanti perché vediamo appunto sono in inglese che riassumo velocemente diciamo boncini vanno tra 20 e 30 per cento e fertilizzanti tra 80 e 200 per cento quindi questa cosa è la parte che abbiamo seguito più noi di altri i pallet 100 per cento in più le gas di legno 50 per cento il diciamo l'imballaggio in in plastica tra 20 e 30 per cento l'imballaggio in quartone e 40 per cento rispetto agli altri io solupolerei su gas elettricità perché queste cose cambiano da oggi a domani anche dopo domani l'acqua c'è stato c'è avuto un aumento tra il 10 e il 20 per cento e quello che loro chiamano stereo storage quindi rimagazzinamento diciamo un costo del 50 per cento i macchinari tra 35 e 40 c'è stato anche un aumento del costo del lavoro tra 10 per cui fa il conto finale dice la produzione ha subito un incremento di costi di 10 miliardi la logistica abbiamo visto di 3,7 miliardi circa 14 miliardi sono i costi che gravano sulle aziende la tabella in basso ci dice che se un prodotto pesante quindi costasse in media un euro e mezzo quindi con un aumento del 4 per cento rispetto al prezzo medio di adesso se la moltipliciamo per i 40 milioni di tonnellate prodotte ci porterebbe diciamo ci coprirebbe i costi per 6 centesimi e varrebbe 2 miliardi e 400 mila euro stesso discorso si potrebbe fare per i prodotti leggeri se costassero in media 2 euro ci sarebbe un incremento dell'8 per cento e che ci sarebbe 16 centesimi coperti questo vuol dire che se avviene questo se riusciamo a portare i prezzi a un euro e mezzo a due euro recuperiamo poco più della metà dei costi che subiamo perché il consumatore avrebbe un aumento di costi di 8 miliardi e 800 milioni quindi copriamo poco più della metà e sembra che stiamo gravando sul sul mondo economico in maniera abbastanza pesata 2 miliardi e 800 milioni non sono pochissimi però se consideriamo che noi ne subiamo 14 diardi di costi la questione non è di secondo piano il problema è che andiamo intanto a dire che questa non è una crisi del 24 febbraio scorso non è solo il conflitto russo-ugrano stiamo attraversando una fase di turbolenza che vedete noi mettiamo a confronto con il post crisi dei subprime del 2007-2008 siamo a quel livello lì di tensione questo è l'indice dei prezzi alimentari non è l'indice dei costi è l'indice della FAO che dice solo quanto volatile e ampio è lo scostamento dei prezzi delle principali commodities sul mercato mondiale siamo in una fase del genere che non parte da febbraio 2022 ma viene da un po' più lontano viene dal post pandemia dall'ultimo semestre del 2021 che ha visto che ha fatto lievitare prime costi energetici e poi a cascata con l'effetto domino fertilizzanti i mezzi tecnici e quindi materie prime agricole e quindi successivamente prodotti industriali trasformati e poi inevitabilmente la spirale prezzo consumi che si innescherà con tutte le conseguenze che avete visto l'ortofrutta vedete abbiamo una situazione più o meno in linea con una certa differenza tra la frutta dove c'è un rincaro sotto il 20% comunque notevole e gli ortaggi che invece hanno un rincaro di quasi il 30% tenete a mente questa differenza che è importante qualcuno ha detto anche ma 15-20% allora stiamo parlando di uno scenario tutto sommato ammortizzabile contenuto io l'ho fatto vedere già dei dati prima che nell'esploso danno il quadro dell'impatto complessivo io ricordo sempre che 15-20% di costi in più non scaricabili a valle della filiera con incremento dei prezzi si ripula 15-20% in meno di reddito netto di valore aggiunto e quindi di reddito per l'impresa che sfido chiunque nella propria attività economica o anche solo nel reddito di famiglia di un lavoratore dipendente a far fronte a una situazione del genere. Ogni azienda orticola più o meno dovrebbe perdere 27 mila euro l'anno a causa dell'incremento dei costi, un'azienda frutticola è qui sempre tra quelle più performanti 8 mila euro e mediamente si ha un calo del reddito quindi del valore aggiunto del 38% quindi stiamo parlando in tutta l'agricoltura italiana ma l'azienda orticola ha un calo vedete anche qui si legge sulla sinistra un calo della redditività di oltre il 40%. Mi occupo dell'estero per Carton Pack e in effetti noi produttori di imballaggi stiamo vivendo un paio d'anni molto difficile poi dipende molto anche dal prodotto. Noi in Carton Pack fabbrichiamo diversi materiali quindi possiamo monitorare anche proprio la situazione sotto vari punti di vista. Forse la situazione più difficile è quella della carta e questo è dovuto anche a delle scelte politiche non solo economiche. Sono venuti a mancare sicuramente container che già erano pieni quindi sono sommate sostanzialmente le indisponibilità e quindi i costi sono inevitabilmente aumentati anche perché le navi hanno sostanzialmente delle toccate pisse a giorni fissi si chiamano loop quindi toccano sempre gli stessi porti in un giro sostanzialmente. Dovete immaginarlo un po' così fondamentalmente cioè un treno che passa certe ore tutti i giorni nello stesso posto. Da una parte se il treno è puntuale la gente che è da immaginarsi come le aziende che producono e che continuano a esportare sale sul treno con regolarità il treno carica e va via. Quando il treno non è regolare c'è anche l'agente. In questo caso cosa vuol dire? Che la merce continua ad arrivare ma la capacità di evacuare sostanzialmente il prodotto non è più la stessa. L'incremento dei costi, come fronteggiarlo? E' un tema che se vogliamo interessa tante politiche e tanti quindi strumenti di politiche agricole che abbiamo in Italia. C'è il fronte intanto della concentrazione dell'offerta, del miglior posizionamento del prodotto sul mercato, la discussione di come e in che misura scaricare quel maggior costo della possibilità e del quantum si può fare di come variare il pricing del prodotto che va sul mercato, acquirenti e reseller permettendo ovviamente, questo è un tema che mi ho approfittivo e non lo so benissimo. Si può intervenire su vari modi per il contenimento dei costi, per ottimizzarli, per ridurre la dipendenza da alcuni fattori produttivi che sono diventati improvvisamente più cari penso ai fertilizzanti o altro. Il PNRR è uno degli strumenti, è molto attuale, ci sono una serie di interventi che adesso vedremo che stanno partendo e che attengono anche alle possibilità di ovviare a questi squilibri di mercato e a gravi dei costi ma ce ne sono anche altri. Io voglio ricordare solo strumenti di politica nazionale come il credito d'imposto. Sì, brevemente che cosa abbiamo fatto noi? Credo quello che hanno fatto tutte le aziende è contenere i costi dove è possibile, però vi dico anche se avessi trovato delle inefficienze pari all'interno della mia azienda che avessero coperto questo aumento di costi avrei dovuto lasciare probabilmente l'incarico e quindi è chiaro che questo non può essere sufficiente. Secondo noi, alla fine, visto che non abbiamo delle leve per poter agire su queste cose, è il nostro approccio che deve cambiare, quindi in una fase così turbolente, in una fase così fatemi dire veramente caotica e che ormai è diventata o per un motivo vi ha visto prima pandemia oppure adesso la guerra, chissà domani che cosa potrà succedere, è diventata davvero un evento strutturale, cioè l'incertezza è elemento strutturale del nostro futuro personale ma anche aziendale, quindi cosa fare? E a quel punto lì insomma noi ci siamo detti vabbè dobbiamo rivedere a tutti i nostri processi con degli occhiali puliti, non possiamo più continuare a fare quello che stavamo facendo prima. Quindi abbiamo rimesso... l'incremento dei costi nella mia testa viene fuori un numero 60%. Il 60% è l'incremento circa, l'incremento medio dei costi sui nostri prodotti negli ultimi due anni. L'incremento dovuto ai temi che i colleghi hanno già citato qui durante questo speech di aumento dei prezzi della materia prima, aumento dei trasporti, covid e quant'altro. Ma anche per noi un fattore di incremento dei costi è lo shortage dei componenti elettronici che in questo momento c'è un grande squilibrio tra la domanda e l'offerta. Zilabe ha reagito a questa situazione, ha cercato di far fronte a questa situazione. Come? E in parte abbiamo servito in parte i costi, quindi gli aumenti. In parte abbiamo trovato delle soluzioni interne all'azienda ma anche sul mercato in modo da rendere sostenibile la produzione dei nostri componenti, dei nostri prodotti. E se dobbiamo pensare invece ad arginare i danni della guerra, degli incrementi, Zilabe pensa di arginare i danni riducendo lo spreco alimentare e la frutta. Per noi è stato molto molto complicato perché siamo stati un po' travolte a 360 gradi perché nei nostri macchinari c'è l'acciaio, la parte elettrica, la parte elettronica, la parte plastica. Invii 30 container dotati oggi di invi tra 9 mesi quando è pronta la macchina perché dal momento della firma all'avviamento possono volerci 9 mesi e magari da 4.000 euro il preventivo un container è passato a 9, occorre che sia necessario coinvolgere il cliente in queste che sono le problematiche. Cioè fargli capire che la macchina arriva in un tempo più lungo dell'abituale che già è un tempo che non è brevissimo visto che è in tantistica su misura e che quindi lui deve aiutarci ad aiutare. Cioè che deve capire che i posti non dipendono più da noi, che la data di avviamento non dipende più da noi, che reperire certi materiali, certe cose non dipendono più da noi.